Sta per arrivare ora nel corteo storico. Il corteo storico è un gruppo di persone, di volontari del nostro paese per arrivare alla manifestazione del corteo, ma fanno tutta questa strada portando in giro i costumi medievali, anche per legarsi un po' alla nostra origine storica, perché Solopaga è un paese che possiamo dire che ha origini molto altissime e quindi abbiamo voluto collegarsi con questo aspetto della nostra tradizione delle nostre origini rappresentando Solopaga con i costumi di epoca medievali. Solopaga 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.